La pace dei santi sia con voi. Il 25 febbraio la Chiesa celebra la memoria di San Nestore di Maghidos, vescovo e martire. Nestore era vescovo di Maghidos in Panfiglia, regione dell'Asia minore. Fu ucciso in spregio alla fede nel 251 a Perge, mediante crocifissione. Una passione greca del martire narra che durante la persecuzione ordinata dall'imperatore Decio, il governatore della Panfiglia, Poplio, fece ricercare i cristiani della zona per farli sacrificare agli dèi. Nestore si prodigò per mettere in salvo la comunità cristiana di Maghidos, ma non si preoccupò della sua sorte. Dopo il rifiuto di abbiurare e sacrificare gli dèi pagani, fu preso prigioniero. Dapprima venne giudicato dal Senato e dal Tribunale locale, poi lo condussero a Perge per essere sottoposto a un nuovo processo. Durante il tragitto si verificò un terremoto. Dopo essere condannato e torturato, fu giustiziato. Auguri a tutti coloro che portano il nome di San Nestore e a quanti festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. Grazie a tutti.